Musica Approfitta dell'eco bonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL, contattaci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. Bassa pressione sull'Italia, un'intensa perturbazione colpisce il nostro territorio. Sarà una domenica 14 novembre all'insegna del maltempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, con cielo coperto, frequenti precipitazioni generalmente diffuse e localmente anche intense. Limite delle nevicate intorno ai 1400-1700 metri sulle Dolomiti. Temperature sostanzialmente invariate, da notare la ridotta escursione termica, minime tra 6 e 12 gradi, massime invece tra i 10 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo piogge diffuse e localmente anche forti. Nelle ore pomeridiane via via meno frequenti. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario. Stessa situazione, precipitazioni un po' dappertutto come vediamo, ma verso sera andrà migliorando. Temperature minime intorno ai 6-9 gradi, massime infine sugli 11 gradi all'incirca. Dal Meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3. Approfitta dell'eco bonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL, contattaci per un preventivo gratuito. Grazie a tutti.